Io ho fatto la scuola serale perché lavoravo e nel frattempo cercavo di prendere un titolo di studio perché mia madre mi ha detto che se un giorno vuoi fare anche solo spazzino il diploma ti serve quindi non si può mai sapere, ti dico io ad oggi con quel diploma non ci ho veramente fatto niente però nella vita non si può mai sapere quindi meglio fare le cose come vanno fatte in ordine per ordine e poi un giorno capiamo esattamente.